Un prete, un professore di religione, una persona capace di lasciare il segno, divenuto poi beato. Quei tanti giovani che ha incontrato nella sua vita, adesso diventati adulti, non riescono ancora a credere di aver avuto accanto un uomo tanto straordinario. Come gli ex alunni del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, dove padre Puglisi è insegnato per tanti anni. Lunedì scorso, nella giornata liturgica dedicata al sacerdote ucciso dalla mafia nel 93, proclamato beato lo scorso 25 maggio, gli studenti del Vittorio Emanuele hanno ricordato padre Puglisi con slogan, canzoni e musiche sul sagrato della cattedrale. Ad animare il flash mob le coreografie dei ragazzi e i brani del musical Tu da che parte stai, scritto da Roberto Lopez, amico di Don Puglisi e docente dell'istituto. L'evento è stato ideato dalla classe Quartae con il coordinamento della professoressa Piera Fallu.